E' addirittura d'arrivo l'iter per avviare i lavori post terremoto nelle scuole di Teramo dove saranno eseguiti interventi in 12 istituti di proprietà del comune. Le scuole sono agibili ma devono essere adeguate sismicamente. Gli interventi in questione sono stati finanziati con circa 35 milioni di euro grazie all'ordinanza speciale numero 31 firmata il 31 dicembre 2021 dal commissario per la ricostruzione del centro Italia Giovanni Regnini. Grazie al lavoro che abbiamo svolto nel corso di questi anni tutto il patrimonio scolastico della città di Teramo di competenza comunale è integralmente finanziato per l'adeguamento sismico e per la ricostruzione di tutte le scuole del territorio. Un risultato straordinario che abbiamo conseguito che ci consente grazie al lavoro non solo dell'amministrazione comunale ma della comunità dei sindaci che ho l'onore di rappresentare come ANCI, del commissario Legnini, dell'USR e delle regioni di consegnare al futuro scuole sicure per i nostri ragazzi che ci consentiranno anche di intervenire come non si è fatto mai perché usciamo fuori grazie al lavoro anche del commissario, la sua scelta coraggiosa dalla logica dei meri interventi finalizzati a rimuovere le inagibilità. Dobbiamo mettere in sicurezza tutte le scuole, i finanziamenti li abbiamo ottenuti, è stato un lavoro straordinario. Ma per avviare gli interventi il comune di Teramo sta pianificando e programmando una strategia per non creare grandi disagi agli studenti con l'avvio dei lavori. Gli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico richiedono una programmazione tale per cui ci possa essere una rotazione poi nello svolgimento, nella distribuzione anche dei nostri ragazzi che non possono vedere ovviamente interrotta o pregiudicata la continuità didattica. È un lavoro imponente che riguarda tutto il cratere sismico del centro Italia. Quindi il lavoro importante che faremo anche insieme alla provincia perché abbiamo scuole che insistono sul territorio della città di Teramo non di competenza diretta del comune è mettere in campo un piano, un programma che ci consenta di adeguare sismicamente le scuole facendo ruotare i nostri ragazzi per non interrompere le attività.